In concorso al Festival di Berlino. Quando mamma è tornata noi stavamo ancora là. Per chi pensa a queste cose? Tratto da una storia vera. Mamma era una tipa che avevamo baci. Dal libro inchiesta di Lirio Abate. Che sei una malaterra. Mamma parrà. Tu sei l'unica che può cambiare sui schifo. Grazie.